Sono 20 anni che sulla giustizia si litiga senza discutere, vorremmo discutere eventualmente anche litigando se serve, ma siccome si litiga senza discutere nel merito da 20 anni vorremmo iniziare a discutere nel merito e possibilmente senza litigare. Questa è la rivoluzione orlandiana, la via dell'Orlando, non dell'Orlando furioso, l'Orlando pacifico con il suo stile quasi Doroteo, l'Orlando Doroteo, la rivoluzione dell'Orlando Doroteo. Come voi sapete, li avete già visti, sono già pronti gli atti, anzi saranno anche a disposizione i disegni di legge per chi li vuole cambiare, correggere, modificare, open government totale, quindi trasparenza totale. Li applichiamo, meglio, li approviamo il primo di settembre, quando partirà anche l'operazione mille giorni. Al termine dell'operazione mille giorni l'Italia deve avere un processo civile che dura un anno, in primo grado. Vi do i dati, Italia, processo civile primo grado, 900 giorni. Germania 300, Francia 340, Inghilterra 350, Stati Uniti 280. Ci rendiamo conto.